E' uno scherzo. La risata è la vera trovata. Dovremo trovare almeno altri 200 mostri spassosi. Scusi, Tyler Tuskman, spaventatore ufficiale. Cosa? Spaventatore? Sta dicendo che non assumete più spaventatori. Spaventatori out, giullarine! E' uno scherzo? Ti mando al MIFT! Sì! Casa Dolce Casa! Abbiamo un nuovo acquisto. Tyler Tuskman! Ciao! Mio migliore amico all'università. Seguivamo insieme solo un corso. Sì, ma era speciale. Non ci siamo mai parlati. Mi dite che cos'è il MIFT? Che cos'è il MIFT? Te la sei voluta. La Monsters & Company! M-C-F-T! Se c'è bisogno di manutenzione, noi manuteniamo. Adesso! Nessuno parla più di questa storia. Nessuno ha visto niente. Beh... Nessuno ha visto niente! Mi hanno detto che è un impiego temporaneo. Buon per te! Nessun MIFT va da nessuna parte. Insegnerò a voi mostri come essere divertenti! Non so se sia stata una buona idea. Qui c'è il metto e tesserino del nuovo arrivato. Benvenuto alla Monsters & Company!